Ho ho ho, buongiorno a tutti, sono il più grande giocattolaio e oggi sono qui per raccontare come è andato il viaggio del cuore. Insieme con Mamma Natale Marzia Faggio siamo partiti qui dalla prefettura di Varese sabato 5 novembre e abbiamo toccato svariate città qui del nord Italia. Siamo stati ad Arona, a Biella, a Settimo Torinese, a Chiavari e in tutte queste città abbiamo fatto delle grandissime raccolte di regali che poi abbiamo iniziato già a portare da martedì nelle pediatrie, nelle oncologie, nelle case famiglia. Il viaggio è andato benissimo, qualche volta abbiamo preso anche un po' di pioggia perché la nostra slitta non è protetta ma è realmente una slitta che ha viaggiato su strada con noi e la pioggia l'abbiamo presa ma è andato molto, molto bene, siamo soddisfatti. Le parole del più grande giocattolaio valgono mille articoli, comizi e dichiarazioni. Riduce da un vario pinto tour de force, Babbo Natale ha riempito di gioia i cuori eroici dei piccoli ricoverati e trasmesso alle famiglie donatrici tutto il calore del verbo dare. Abbiamo ricevuto e raccolto oltre 2000 doni da tante famiglie, da tanti bambini e oltre 2000 euro di offerte. La cosa bella è stata vedere i bambini, gli occhi dei bambini poter donare il regalo a Babbo Natale e non riceverlo. E questo è il messaggio che deve passare, aiutare chi è in difficoltà in questo momento.